È una delle strade maggiormente trafficate in Umbria ed ormai da troppo tempo ferita, ma dai prossimi giorni la situazione dovrebbe cambiare. La Flaminia, all'altezza della frazione di Foligno-San Giovanni-Profiamma, vedrà da lunedì il cantiere partire coi lavori per ripristinare la sede stradale spaccata dalla frana. Secondo informazioni ricevute da ANAS, oggi ci sarà la consegna dei lavori alla ditta che si è giudicata all'appalto e quindi dal prossimo lunedì si inizierà ad allestire il cantiere per la sistemazione della frana. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle viabilità Giuseppe Chianella. Dopo l'evento frannoso, ha ricordato l'assessore, è stato costituito un gruppo di lavoro formato anche da esperti del Dipartimento di Ingegnere di Perugia per individuare gli interventi più idonei da poter realizzare al piede della frana lungo la strada statale in modo da permettere la riapertura al traffico dell'intera carreggiata. Sulla scorta di questi studi, prosegue, i lavori sono stati affidati all'ANAS tramite una convenzione stipulata il 1 settembre del 2015 valutando il costo dell'intervento in 220.000 euro. Ad ottobre, la regione Umbria aveva erogato all'ANAS l'acconto di 110.000 euro. Così, dopo anni di attesa, sembra davvero che il cantiere sarà realtà a partire dal lunedì. Da quell'aprile del 2013, i cittadini e commercianti sono stati sul piede di guerra più di una volta per chiedere tempi veloci del ripristino totale, ma ci sono comunque voluti tre anni. Le verifiche tecniche effettuate subito dopo il disastro avevano definito le dimensioni del disesto di scivolamento con una larghezza, stimata intorno ai 130 metri, lunghezza di circa 200 ventri per un'area di 4 ettari, uno spostamento di una ventina di metri che aveva interessato almeno 500.000 metri cubi di materiale franoso. Oggi l'assessore Chianella ha ricordato che invece per quanto riguarda i lavori nel versante, il soggetto attuatore è il comune di Foligno, che ha presentato recentemente i documenti necessari per procedere alla concessione del contributo, il cui atto è in fase di lavorazione.